L'intero centro-destra, io sono per un'area moderata, sono per un'area centrale, questo lo stiamo facendo anche attraverso l'impegno per gli europei, attraverso una nostra azione, una nostra presenza diretta. Non lo so questo, bisogna chiedere ai responsabili del centro-destra, ma l'occhiuto viene anche dalla mia storia, gli occhiuti vengono dalla storia della democrazia cristiana, vengono dal moderatismo cattolico, per cui è un'amicizia, è un sodalizio che affonda nei tempi. Poi il centro-destra è tutto, bisogna capire qual è il progetto, l'impegno futuro, perché alcuni principi di riferimento, alcuni valori non è che sono irrilevanti rispetto anche all'azione amministrativa e di governo che si deve fare per la Regione Calabria. Sostenere occhiuto perché è il miglior amministratore che la Calabria in questo momento ha e quindi è giusto che dedichi tutte le sue forze, tutta la sua competenza a risollevare la nostra terra. Noi siamo convintamente con Mario perché appunto riteniamo che lui possa veramente essere il Mario giusto dopo aver provato il Mario sbagliato. Ci sarà unità nel centro-destra sul nome di occhiuto? Noi lavoreremo per questo, noi facciamo parte di una coalizione, riteniamo che la coalizione debba andare unita alle prossime regionali, riteniamo che Mario possa essere la sintesi per tutto quel mondo di centro-destra che vuole cambiare la Calabria. Senta, a suo avviso dove ha fallito Oliverio? In tutto. Se ha fallito? In tutto, è difficile trovare un settore dove non ha fallito. Senatore, qualora non ci dovesse essere l'unità con le altre forze di centro-destra, è fantapolitica pensare a delle primarie di coalizione? Io ritengo che l'unità si troverà, per cui naturalmente in questa fase è giusto che ci sia un dibattito, che ci sia un dialogo. Noi siamo convinti delle nostre idee, della nostra forza e quindi porteremo avanti la candidatura di Mario. Penso appunto che un'ipotesi del genere non si verificherà. Ha dimostrato sul campo da sindaco di Cosenza di essere un ottimo amministratore e per risollevare le sorti di questa terra c'è bisogno di un grande amministratore. Lui è molto capace, è un moderato, ha unito una serie di forze civiche e politiche attorno a lui e quindi penso che sia la persona giusta e sia la volta buona anche per ricostruire dalle macerie che ha lasciato in questi cinque anni Oliverio una regione diversa, una regione che cresce, una regione che possa stare al passo delle altre e possa entrare anche a pieno titolo per la gestione di settori fondamentali quali i fondi comunitari e la sanità che ci rendiamo conto lo stato in cui sono. C'è bisogno anche di centro-destra? Assolutamente sì, io penso che ci siano tutte le condizioni. Oggi noi partiamo, partiamo in largo anticipo quindi abbiamo anche il tempo per costruire un programma adeguato, condiviso da tutte le forze politiche e naturalmente questo non è un progetto chiuso, è un progetto aperto. Mi auguro che anche le altre forze politiche del centro-destra possano cogliere questa opportunità per la nostra regione, fare squadra, stare insieme e lavorare per cambiare questa terra.